C'è un problema logico, io parlo contro la violenza sulle donne. Il contraddittorio vuol dire che avremo sul palco un uomo che picchia le donne, che stupra le donne. Cioè questo è un problema logico. Cosa facciamo? Perché io parlo contro la violenza alle donne. La scorsa settimana sei donne sono state ammazzate. Quello che chiedono alcuni personaggi di avere un contraddittorio ha un problema semplicemente logico. Ci sta bene un uomo che picchia le donne e che vada sul palco? Ci sta bene uno che stupra le donne e che vada sul palco? Questa è la domanda che va fatta a loro.